Le priorità innanzitutto sono quelle di riuscire a continuare nel migliorare quella che è un'organizzazione che offre servizi all'agricoltura, agricoltura moderna, avanzata, perché è un'agricoltura che sta cambiando e anche i servizi che noi offriamo alle aziende devono essere adeguati a queste innovazioni. Dall'altra parte credo che per Piacenza ci siano delle priorità fondamentali che sono, partendo dalla montagna, la lotta senza tregua al problema dei selvatici che sta diventando una calamità, così come le strutture necessarie per garantire l'uso dell'acqua in un tempo moderno, che ad esempio le traverse e il progetto sulla diga è fondamentale per ovviare i rischi del passato e l'altra cosa è un grande investimento su quelli che sono i rapporti diversi nell'agroindustria tra produzione agricola e industria. Dobbiamo valorizzare Made in Italy e far fronte a una politica europea che vuole l'indistitività e dove oggi la Coca-Cola Light è considerata un prodotto che fa bene quindi marchiato col bolino verde a fronte del latte considerato rosso. Quindi questa è la cultura che dobbiamo combattere nel rispetto della salute dei consumatori ricordando che il Made in Italy garantisce longevità.